Buongiorno, ben trovati per questo appuntamento quotidiano con la carta stampata, occhio ai giornali qui su Fano TV, naturalmente prima di guardarli però il santo del giorno e poi le previsioni del tempo. Oggi giovedì 25 giugno e San Guglielmo Abate, il sole è sorto alle 5.26 e tramonterà alle 20.55 e vediamo i dati che ci rimanda la nostra centralina, vedete la temperatura in questo momento è di poco superiore ai 14 gradi e il cielo si presenta in questo modo, un bel azzurro pieno, carico, nessuna nube all'orizzonte. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, il cielo sarà sereno e poco nuvoloso, precipitazioni assenti e quindi vedete le didascalie molto scarne, sole pieno se non qualche nuvolosità sui rilievi e quindi insomma è una giornata di pieno sole, anche quella di domani per venerdì, insomma sereno poco nuvoloso, lievi velature, cumuliformi però ai ridossi dei rilievi nelle ore più calde, nessuna precipitazione. Anche sabato, primo giorno del weekend, vedete c'è un'intensificazione di velature nelle ore più calde però della giornata e però le precipitazioni non ci sono, non c'è pioggia, non c'è simbologia della pioggia e quindi insomma il weekend si preannuncia sul bello e quindi la tendenza nei giorni successivi sarà quella appunto di prevalentemente soleggiato almeno fino alla metà della settimana prossima, anche le temperature aumenteranno, quindi insomma previsioni meteorologiche di tutto rispetto e incoraggianti soprattutto per gli amanti del mare. Entriamo nel vivo delle notizie, partiamo con il Corriere Adriatico di Fano, servizi sani elvati senza altre tasse, questo è il sindaco di Fano Massimo Seri che replica alle critiche, presentato il bilancio di previsione 2015, recuperati 5 milioni di minori risorse, è un miracolo, questa è la sua considerazione. Per quanto riguarda però il porto, problemi perché non ci sono più di due metri d'acqua e quindi un pescaggio molto scasso, vedremo questa notizia ripresa anche in altre testate, insomma ci sono problemi per i nostri pescherecci, vietati accesso e navigazione a barche con pescaggio superiore. Poi di spalla dopo 22 anni a Marotta, il comandante di Marotta Barrasso, ora guida Fano, la stazione dei carabinieri sarà al suo comando e nell'arma dal lontano 1981 ha ricevuto vari riconoscimenti per meriti di servizio. Quindi auguri al nuovo comandante. Da Senigallia ci si avvia a una stagione estiva nella città della Rotonda intensa, ci sono Raduni, c'è Giamburi, quindi la rivoluzione viabilità, fioccano anche le multe, c'è il Catera Raduno, quindi che attira migliaia e migliaia di amanti di questa trasmissione radiofonica che da tanti anni si tiene a Senigallia. Niente sconti per chi va in bici sul corso e poi autovelox anche a Marzocca, quindi giro di vite per quanto riguarda viabilità e multe, concerti serali, prevista anche una maxi isola pedonale fino alla statale e poi anche a Senigallia a Renire sotto controllo, è un vigile di quartiere nella zona delle piramidi, dopo alcune proteste dei bagnanti per alcune foto scattate, è stato fermato un 59enne iesino per atti osceni in luogo pubblico, e quindi insomma a Renire sotto controllo, lo assicura il comandante Brunaccioni, un servizio aggiuntivo per l'estate richiesto proprio dai residenti e dai frequentatori della spiaggia del Cesano. Cambiamo la testata, andiamo nel resto del Carlino, apriamo con le pagine dedicate a Pesaro, la città che protesta perché c'è una strada via Lamarca, è un imbuto infernale, auto parcheggiate su due file che vengono incrementate durante l'estate, non si può aspettare il morto, insomma come alle volte avviene, insomma si chiude la stalla quando i buoi sono scappati, quindi le mamme protestano, pedoni e ciclisti sono ad alto rischio, qui è una foto scattata in un momento di traffico intenso, il comune ci pensa, eliminare i parcheggi a monte però è impossibile, l'ipotesi è un percorso pedonale. Ancora da Pesaro i morsi della crisi si fanno sentire, famiglie e anche singoli cittadini fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese e quindi crescono le richieste d'aiuto, chi è senza lavoro non ce la fa, l'assessore alla solidarietà, 108 sono gli adulti in carico ai servizi sociali. E' dura far quadrare i conti di casa e appunto sulla destra nella foto vedete Sara Mengucci, l'assessore alla solidarietà nel 2015, i contributi per bollette e affitto abbiamo speso oltre 7 mila euro in aiuto di 14 adulti senza reddito, meno autonomi degli anziani. Ancora dalle pagine che riguardano Pesaro, un fatto di cronaca che si è verificato vicino alla palla di pomodoro, trovato un ragazzo smemorato perché non ricorda nulla, è tassa ai 20 e ai 25 anni, parla solo inglese, è vestito bene ma non ricorda assolutamente, è ricoverato. Si chiama Cristopher Battuti, ha tappeto tutti gli alberghi della zona con la sua foto per cercare di capire da dove venga e chi è. Apriamo le pagine del resto del Carlino di Fano, anche qui notizia riguardante il bilancio. Ha annunciato il sindaco Seri anche in arrivo 75 milioni di euro tra il dicembre 2015 e giugno 2016, sono opere accessorie, sono fondi derivati in arrivo per le opere accessorie della 14, quindi andranno per strada delle barche, dragaggio del porto, riqualificazione di aree come quella del Sant'Arcangio e della Rocca Malatestiana. Ieri è stato in conferenza stampa molto chiaro il sindaco Seri su quello che è il progetto per la città di Fano e il bilancio è stato una componente importante tra lacrime e sangue, però i servizi e le persone sono stati assicurati. Comune 5 Stelle presentano un'interrogazione, l'assessore Bagnesi prende tempo, si parla di ambito sociale 6, che fine hanno fatto le fatture in liquidazione. Non le liquida, chiedono se sia vero con un'interrogazione e vogliono conoscere quali sono gli impedimenti che non consentono la liquidazione di queste fatture. Ancora dalle pagine di Fano, anche ieri è stata una giornata dove si è parlato di cultura, di teatro a Fano, perché è stata presentata la stagione per il Teatro della Fortuna di Prosa. Torno, grande novità, tre serate per dare possibilità a tutti di avere un posto di buona visibilità, quindi una giornata in più e soprattutto sinergia tra il cartellone di Fano e quello di Pesaro. Qui vedete nelle foto del Carlino alcune star che arriveranno nella stragione. Solfrizi, Paolo Rossi, che sarà artefice di un testo di Moliere, e poi Sabrina Impacciatore, che rappresenterà la Venere in pelliccia. Ancora nelle pagine di Fano, però che riguardano un po' anche l'interno, finisce nei guai per una specie di Camel Trophy che fa un ventunene di Marotta, sgomma nel bosco con la Jeep, poi posta il video su Facebook e questo gli procura dei guai perché è a processo per danneggiamento. E poi eccellenze territoriali per Expo 2015, targata a Monterosso, si parla del Farro, Lea Luzzi, la fondatrice, una donna imprenditrice, dà lustro alle eccellenze territoriali in ambito gastronomico, in ambito di eccellenze territoriali perché nel padiglione Italia avrà uno stand tutto suo e quindi il farro della nostra provincia sbarca all'Expo. L'attestata del messaggero, ve la faccio vedere, prove tecniche di notte rosa, si parla di eventi estivi, naturalmente a Pesaro, il comune testa l'illuminazione tematica sul lungomare ed annuncia i primi eventi, naturalmente anche la sicurezza è importante, summit in prefettura, divieto di impiegare bottiglie e bicchieri di vetro e poi tempi duri per gli amici a quattro zampe perché in 900 dicono no alla spiaggia dei cani e quindi insomma vedremo anche questa notizia, ve la faccio vedere subito, ecco 900 firme per bloccare la spiaggia dei cani, gli operatori balneari di Ponente contro la decisione di consentire l'accesso degli animali in un tratto di arenile di Viale Trieste, quindi insomma tempi duri per l'amico dell'uomo. Ancora nelle pagine del messaggero, i morsi della crisi, ma non è soltanto una crisi congiunturale, una crisi anche strutturale perché il tessile è spazzato via dai cinesi, sindacati, associazioni di categoria applaudono alla finanza per i controlli, per tutte quelle che sono state le azioni di contrasto all'illegalità, concorrenza sreale che ha fagocitato il vero Made in Italy e quindi questo sicuramente non facilita le nostre imprese che già hanno a che fare con problemi. Ecco vi facevo vedere in apertura di testata la Notte Rosa sul lungomare, qui in questo articolo c'è il calendario, tutti gli avvenimenti, appunto il capodanno d'estate di sabato 3 luglio, Notte Rosa sul lungomare pesarese. L'ultima pagina che vi faccio vedere per quest'oggi, come sempre il messaggero che riguarda Fano, il Porto, il Porto è il grande malato di Fano, pezzolesi della Comar Pesca, servono interventi strutturali e risolutivi, non abbiamo bisogno di pagliacciate elettorali come il mini dragaggio, queste le sue considerazioni. Fuga di pescherecci dalla Porto insabbiato, scalo quasi impraticabile, pescaggio massimo abbassato a 2 metri e quindi insomma grave allarme che non si placa. Però qui di spalla il messaggero punta anche su un'altra tematica che è venuta fuori nella conferenza stampa di ieri per il bilancio preventivo del 2015, la fusione tra Aset ed è stato dato un ultimato del sindaco Seri, verifica a novembre, lui dice sì, mi aspetto, cospicuo i passi avanti nel processo e quindi se appunto la fusione sa da fare, non voglio slittare oltre ore con i tempi, non sarebbe tollerato fino al punto di addirittura commissariare gli attuali vertici delle due ASE e la Holding, questo è stato affermato ieri dal primo cittadino. Oltre a questo però si è detto estremamente orgoglioso di questo bilancio perché sono stati recuperati dei fondi e tagli fatti non in maniera lineare ma con il bisturi mettendo grande attenzione soprattutto a salvaguardare i servizi alla persona. Bene, questa era l'ultima pagina che vi facevamo vedere per questa rassegna stampa che tornerà naturalmente puntuale domani mattina alle 7.30, un saluto anche a tutti coloro che ci seguono in replica e questa sera l'appuntamento con la notizia appunto con il nostro TG alle 20.30. Grazie per la vostra attenzione e buona giornata a tutti voi. Grazie per la visione!